Sito Neolitico Come si spiega il sito neolitico di Sonenji in Inghilterra con i suoi massi giganteschi che nemmeno le nostre macchine attuali potrebbero gestire? Commento Si spiega con l'energia eterocronica la stessa che permette la materializzazione e la smaterializzazione degli apporti negli incontri medianici La guida Alexander del cerchio esseno ha parlato per prima di questa energia Molti siti megalitici sono stati costruiti dai fratelli dello spazio che hanno smaterializzato enormi volumi di pietra nel piano astrale e li hanno rimaterializzati nel piano fisico Gli UFO, come è stato spiegato dall'entità François presso il cerchio Firenze 77 usano lo stesso procedimento di materializzazione e smaterializzazione per superare nei loro viaggi astrali le distanze inconcepibili che separano i loro pianeti dalla Terra Grazie a tutti 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 Grazie a tutti